Salve Runner! Faccio un mini video introduttivo per far vedere a chi ancora non ha capito come magari scaricare al meglio le nostre foto sul dispositivo mobile. Come sapete abbiamo aggiunto una seconda galleria per facilitarvi lo scaricamento di ogni singola immagine ed evitare che voi prendiate con screenshot fatti dal cellulare le foto che sono a scarsissima qualità. Io ad esempio ipotizzo che siete voi e voglio andare a prendere l'ultimo servizio, quello dei Monti Simbruini fatto da Bonanni ed Emanuolo Mosolino e ci vado a cliccare. Lui apre direttamente il sito e mi fa comparire questo screenshot, questa schermata dove mi dice che se voglio interagire col cellulare o comunque con un dispositivo mobile tipo Android mi permette di avere subito le foto a mia disposizione. In questo caso io vado su prima parte e mi apre la galleria. Voglio scorrere e vedere ipotizzando che a me serve questa foto, ci clicco sopra vado qui su queste tre palline e clicco scarica. La foto come vedete me l'ha scaricata dentro la cartella download del cellulare e andrò tenendo schiacciato a condividere direttamente su Facebook, su Messenger, Whatsapp, su qualsiasi mio contatto in cui io voglio fargli vedere la foto insomma. Praticamente la seconda galleria è stata aggiunta diciamo l'idea di noi quattro, quattro cinque, perché abbiamo diciamo parlato con voi e sentito le difficoltà che avevate nel reperire le foto dal cellulare su quella galleria Flirk. La galleria Flirk è comunque rimasta, infatti vi permette di farvele scaricare con il pc e avere la foto in una buona qualità non andando a intaccare per nulla di come l'abbiamo caricata a noi. Infatti se io voglio andare comunque sulla galleria Flirk, chiudo qui, entro nell'articolo, guardo una foto, come ne ancora clicco sopra qui e ovviamente sono in Flirk. Sperando che questo video vi sia utile, noi di Photoforgo vi salutiamo. Grazie